Adesso non si tratta più di un rischio ma di dura e cruda realtà. In territorio campano ma a poche centinaia di metri dal confine molisano è iniziata la realizzazione di un parco eolico che sorgerà ad immediato ridosso del parco regionale del Matese, del sito archeologico di Sepinium Maltilia, del parco geopaleontologico di Petraroia e della valle del Tammaro. Le popolazioni del Matese e dell'Alto Tammaro hanno da tempo iniziato una battaglia a difesa del territorio. Recentemente è stato costituito anche un coordinamento interregionale per mettere in rete enti, associazioni e comitati che lottano per lo stesso risultato, impedire che il territorio venga trivellato a scopi di estrazione petrolifere che sul territorio vengono installate paleoliche in maniera illegittima. Anche il vicepresidente merito della Corte Costituzionale Paolo Maddalena che ha partecipato alla cerimonia che ha sancito la nascita del coordinamento ha offerto la propria assistenza legale in modo gratuito ma intanto il pericolo adesso è manifesto dicono enti, associazioni e comitati contrari a quella che definiscono una devastazione del territorio. Alcune imprese hanno già iniziato gli scavi a poche centinaia di metri dal confine con il Molise senza che alla conferenza di servizio che ha dato l'ok alle autorizzazioni siano stati convocati i rappresentanti dei comuni molisani interessati e quelli della direzione regionale del Ministero dei Beni Culturali. La rete dei comitati di tutela ambientale chiede dunque alla regione molise evidentemente distratta nei fatti su queste tematiche, al di là dei comunicati stampa fiume di qualche consigliere regionale, iniziative urgenti e concrete a tutela del proprio territorio e del proprio patrimonio culturale, paesaggistico e storico archeologico. Insomma si chiede di far rispettare le leggi e di impugnare i provvedimenti di autorizzazione adottati, sostiene la rete dei comitati di tutela ambientale, in maniera illegittima.